Buongiorno a tutti ragazzi, buon lunedì, lunedì sera, ovvero oggi giochiamo contro la Samp a Marassi e quindi giorno gara. In questo video vi parlerò della formazione titolare, la potenziale formazione titolare perché non ho la sfera di cristallo, però alcune anticipazioni ci dicono già, ci danno un chiaro riferimento di quel che sarà la Juve di stasera, almeno in astre di partenza. Poi parleremo anche di mercato in questo video, quindi mi raccomando, video bello succoso, pre-match, quindi vi dico già che poi io sarò lì allo stadio, farò il post partita lì dallo stadio, farò la live reaction, poi vedrete magari i gol, le emozioni, il Marassi perché è la mia prima volta e ci andrò con mia moglie, e quindi la ringrazio anche della disponibilità perché lunedì lei lavora, stacca da lavoro e viene con me a Genova, rientriamo molto tardi di notte e le poverine lì domani da presto va a lavoro, quindi è uno sforzo non da pochi, oltretutto lei di calcio viene a fregare relativamente, viene a farmi compagnia più che altro e quindi apprezzo doppiamente. Però tanti contenuti e per questo ragazzi iscrivetevi e cliccate sulla campanella delle notifiche, così ogni volta che esce il video, pac, vi arriva la notifica e siete sempre sul pezzo. Quindi contenuti importanti da Marassi, speriamo anche di dover raccontare una vittoria, ecco già domani, cioè stasera e domani mattina magari troverete il video con la live reaction, speriamo che sia una vittoria, una bella vittoria, una bella vittoria che ci dia fiducia, morale e che porti poi sul campo ad avere dei miglioramenti perché insomma il Sassuolo abbiamo vinto, abbiamo vinto secondo me meritatamente, qualcuno dice di no, per me abbiamo vinto meritatamente, però sul gioco si può sempre migliorare sull'efficacia, non tanto sulla bellezza, perché i canoni estetici a me fregano relativamente, posso accettare un attendismo ma voglio vedere l'efficacia nella ripartenza poi in fase di possesso e quindi la dobbiamo migliorare nell'efficacia. Per quanto riguarda ragazzi ovviamente il resto dovete scaricare la PuanFootball App che vi invito a scaricare perché adesso c'è anche il campionato portoghese gratis, potete acquistare singolarmente le partite della Serie B ad un costo veramente esiguo, 2,99€ in ottima qualità, avete la possibilità di essere sempre sul pezzo gratuitamente sulla Juventus, risultati in diretta, notizie, vi raccomando, ripeto l'app è gratuita, trovate il link in descrizione, oltre che partner del canale, quindi OneFootball tanta roba. Ora parliamo della partita di oggi, è una partita ragazzi complicata, che giochiamo in uno stadio molto difficile nel senso non dal punto di vista ambientale, ma proprio parlo del terreno di gioco perché è messo veramente male, oltretutto il Genoa ha giocato in casa, quindi è stato stressato ulteriormente il manto, un manto vergognoso, speriamo che lo abbiano migliorato, ecco in vista della partita con la Juventus, perché non è un bel bieto da visita, perché per quanto è Samp, scusate, Samp-Monza per esempio, che è una partita che non viene vista da tantissimi tifosi, è un discorso, quando ci va la Juventus una grande, insomma il calcio italiano ci fa una figura di merda, poi tornando invece al discorso di equità, c'è il rischio che si faccia male, sia quello del Monza, sia quello della Juve, eccetera, quindi attenzione a queste cose, sono dettagli che veramente mi irrita quando vedo queste cose lasciate al caso, proprio una sorta di menefreghismo totale, perché menefreghismo ragazzi, se non c'è cura nel manto reboso e nel terreno di gioco, quello è menefreghismo, punto, da parte di chi gestisce la struttura, poi non so se spetta alla Samp, al Genoa, ma siccome usano entrambe il campo, è possibile che spetti al Comune, il Comune se ne batte bellamente i cosiddetti, e non va bene, e non va assolutamente bene, quindi questo, anche qua, secondo me la FGC dovrebbe iniziare a ragionare su delle sanzioni, gli Stati devono rispettare certi standard, altrimenti sanzioni, punto, perché non se ne può più, tanto in Italia se lasci la libera iniziativa imprenditoriale sul miglioramento delle strutture, eccetera, tanti se ne fottono, quindi o li obblighi con le sanzioni, o altrimenti qua mi pare che sviluppo non ce n'è, il buonsenso non esiste, quindi sarà un campo difficile, speriamo di tornare a casa intanto con zero incerottati e con zero infortuni, che questo non guasta, perché abbiamo già il listino e il bollettino medico stile guerra, e quindi questo è il primo aspetto, ma poi soprattutto rientrare a casa con una vittoria, ve l'ho detto, noi dobbiamo arrivare, sono due campionati, apertura e clausura, dobbiamo arrivare a novembre per chiudere il campionato d'apertura, che siamo lì, che ce la giochiamo con tutti, a livello di punti senza troppo distacco, perché altrimenti si complica la corsa allo scudetto, poi a gennaio dobbiamo ripartire già belli lanciati, belli lanciati, convinti di quel che siamo, magari con dei miglioramenti, questo è quello che auspico per questa stagione, auspico la competitività fino al maggio, non chiedo lo scudetto, cioè voglio lo scudetto, sia chiaro, non fraintendetemi, però il miglioramento deve essere nella competitività, che noi arriviamo a maggio a giocarcela alla grande, che non siamo tagliati fuori a marzo come la scorsa stagione, che poi gli ultimi due mesi sono stati uno strazio per noi tutti, questo è importante, e queste partite come quelle con la Samp fuori casa, ragazzi sono punti che vanno messi nel carniere, ok, senza girarci attorno, la Samp non è una squadra malvagia, è una squadra che insomma nella prima giornata di campionato probabilmente non ha raccolto quanto seminato, ed è una squadra che può metterci in difficoltà, la Juve a quanto pare dalle prime indiscrezioni dovrebbe giocare con Perin tre pali, sappiamo già che Scesda è ancora quel problemino agli adduttori e rientrerà a breve, poi a destra ovviamente Danilo senza troppi dubbi, poi giochiamo in mezzo con Bremer e poi Rugani-Gatti, Rugani-Gatti a quanto pare tutti danno in vantaggio Rugani, anche Allegri ha detto quasi Rugani, no? Io sono dell'idea che forse Rugatti, ecco, a me avrebbe dato più, a me dall'esterno che non sono lì alla continassa a vedere gli allenamenti, mi dà un po' più di fiducia, perché Rugani so che cos'è e Gatti, probabilmente su di lui ripongo alcune speranze e penso che possa essere un pelo meglio di Rugani, per cui qualche dubbietto su Daniele ce l'ho, però dovesse aver ragione il mister, Daniele Rugani mi fa una prestazione buona, ottima, chapeau. A sinistra Alexandro, riduce dalla bellissima prestazione col Sassuolo, mi auguro che trovi ovviamente continuità, il problema è che adesso da quella parte a sinistra gioca un certo Adrien Rabiot, e quindi non so se perderà di nuovo un po' di stimoli e fiducia da questo punto di vista, perché secondo me la scorsa partita era veramente in fiducia e tranquillità, perché in quella fascia stava bene, punto, c'è poco da girarci attorno, stava veramente molto molto bene. Era in fiducia, faceva le sovrapposizioni, calpestava la linea di fondo, perché era una cosa che non si vedeva fare da un secolo, ha fatto anche il primo assist e quindi mi auguro che possa ripetersi nella prestazione e che inizia a dare continuità. Quindi, Alexandro a sinistra. A centrocampo, probabilmente nel ruolo di regia, Locatelli, poi giocherà a destra Mecheni e a sinistra Adrien Rabiot, come mezziali. Poi a sinistra avanti Kostic, in mezzo Vlaovic e a destra Quadrado. Questa è la formazione, visto e considerato lo stop anche di Di Maria. Su Di Maria, Allegri ha detto delle cose interessanti, ovvero che potrebbe tornare prima di quanto ipotizziamo. Ci abbiamo pensato tutti i venti giorni e potrebbe recuperare anche un pelo prima. E questa è sicuramente una buona notizia. Vediamo un po' poi che cosa succederà. Io non sto qui ad illudermi sul ritorno di Di Maria prima di tutto. Però, per quanto riguarda la partita, ragazzi, mi auguro di vedere una Juve migliorata, con una manovra un pelo più fluida, con qualche miglioramento rispetto al sassuolo, perché anche i passettini, gli step in avanti vanno fatti. Poi magari ci sarà la partita storta, eccetera. Però bisogna continuare con un certo andazzo. Non bisogna perdersi e smarriresi subito. Dobbiamo continuare a pedalare. Per quanto riguarda questa gara, quindi, insomma, l'Avento si affronterà la Samp così e speriamo bene. Speriamo bene, perché io sarò là e non voglio rientrare a casa con zero punti. Ok. Per quanto invece, ragazzi, riguarda sempre la partita, sono contento di una cosa. Non utilizziamo quel modulo orrido che mi dà fastidio, che il 4-4-2 storto, monco, chiamatelo come vi pare, asimmetrico. Tutto quel che vi pare. Quella è una roba che io non voglio vedere. C'è domani, Allegri, adesso è uscita questa potenziale formazione, che può essere sempre cambiata, ribaltata fino all'ultimo minuto. Io non voglio vedere una formazione poi stravolta in un 4-4-2 ibrido, perché impazzisco, perché gli equilibri che abbiamo trovato col Sassuolo sono stati interessanti dopo 20 minuti orridi, dove la squadra non è che faticava in fase difensiva, ma faticava soprattutto nella fase di costruzione, non trovando linee di passaggio, rendendo la manovra molto macchinosa e lanciando palloni a muzzo, perdendo palloni, più che lanciando palloni, perdendo palloni. Regalando lì agli avversari, io mi auguro che con questo 4-3-3 ci siano dei miglioramenti. Partendo subito da quel presupposto, secondo me la Juve può far vedere e intravedere delle cose interessanti. C'è anche da dire che non bisogna partire contro la Samp ragionando a faccio il 4-4-2 perché dobbiamo prima non prenderle e poi dobbiamo darle. Non funziona più così. Dobbiamo partire subito per darle, perché il tasso tecnico della Juventus è più alto, punto. È più alto della Samp senza girarci attorno, con tutto il rispetto per la Samp, però la Juventus ragazzi deve fare la partita, se non fa la partita io inizio a preoccuparmi, punto. E fare la partita significa non per forza il dato sul possesso palla, non il dominio territoriale, significa che la Juve non subisce nulla e che dà sempre l'idea di essere la più pericolosa, quella che fa la fondo e te la butta dentro, punto. Questo voglio vedere. Speriamo bene. Per quanto invece riguarda il mercato, a quanto pare l'ultima notizia interessante è Memphis Depay, a quanto pare ha fatto già il video di saluto al Barcellona. Vedremo i prossimi sviluppi. Vedo gente che secondo me sta entrando già in protezione, notizia quando c'è il silenzio, prima di un'eventuale ufficialità, altre cose. Io ho la sensazione che Depay possa essere veramente bianco-nero, non mi illudo ancora totalmente. Ma vedere i giornalisti che cambiano come il sole e la notte, prima è verde, poi è rosso, prima è bianco e poi è nero. Ora Depay è congelato, l'abbiamo messo in freezer a fianco ai bastoncini, Findus, placement pazzesco ragazzi, bastoncini Findus. Chissà se mi pagherà il capitano. Capitan Findus paga il placement, però vi dicevo, Depay congelato ha in vantaggio Milik. Milik contro di tutto devi pagare il cartellino, gli dovrei dare comunque un buon stipendio. Io ragazzi a tutte queste manovre non ci credo. Ci credo che Milik sia stato contattato dalla Juve, che sia caldo, un nome caldo per la Juve. Ci può stare, anche se a rigore di logica, cioè Depay e Milik sono completamente differenti, per caratteristiche, per modo di stare in campo, per utilità, eccetera. Depay però si sta liberando, per cui che motivo c'è di accelerare ora su Milik? Ah, sta chiedendo in più di stipendio, ma io ragazzi a queste cose non ci credo, non ci credo. Cioè la trattativa della Juventus con Depay la deve avere già quasi appianata e si discute solamente sui dettaglietti, non sui... Veramente ci sono tante cose nel racconto giornalistico che non tornano. Non tornano. Comunque aspettiamo di evolversi della situazione e vediamo. Detto questo ragazzi, che dire. Occhi, agguzzate la vista su OneFootball perché tanto vi spara la notifica. Qualora dovesse arrivare qualche novità, tac, subito, immediatamente. Signori, questo è tutto. Un abbraccio a voi e sempre fino alla fine Forza Juve!